Cambio che ben conosciamo qui a Perugia per Inizio Gervic, che sfrutta il mancino di Ole Plotinski, che alza questa palla, va fortissimo e fa il suo dovere, la voglia di spaccare il mondo di Ole. Che arma che ha Gervic in pancina? Sì, è un'arma importantissima, non solo oggi, a differenza magari di altre società di Serie A. E intanto scusami Filippo perché Ole Plotinski asvistisce per un attimo noi, tutto il passio, perché trova l'Ace, punto numero 17 del cecchino. Ole Plotinski guarda dove...